Buonasera signori, finalissima Summer Cup! Ricordiamo le due squadre che sono riuscite ad arrivare in finale, il Real Dante e lo Zenit. Una partita attesissima, ecco l'ingresso in campo delle due squadre. Questa è Sparta! Siamo accompagnati di Michele Ciotola, inviato speciale per questa finale. Ciao ragazzi, Real Dante e i Rossoneri subito in vantaggio al secondo minuto. Fanno un gol di Cammaro che in tap-in ha trasformato perfettamente il tap-in in una rimossa laterale di Ganga. Ha subito fatto esplodere di gioia i tifosi supporter dei Rossoneri che vediamo... Facciamo un inquadratura, guardiamo quanti tifosi... E' fantastico! Oh! 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 Pissare lì di testa! Soffrendo, la puntata all'angolo... Gara! Intervento pericoloso! Basile! Possiamo dire per ora il migliore dei suoi! Cerca l'astuzione, controlla, l'intervento di Morio è in chiusura, ma rimette avanti gli mani e i piedi, ancora ottimo intervento di Missaelli, Peppe Piro riesce a controllare, ci prova direttamente Coprol, ma recupera più Piro e salta l'adversario, cerca il tiro, gollo! Piro! Bellissimo finale, 2-0, realtante, ci prova Morio, subito ha risposto per l'oggi. Bambaro, per Peppe Nanavolo, che cerca il tiro, questa volta la palla esce di qualche metro alla destra, cambia gioco per Geppino Marino, intervento di Peppe Nanavolo, per Pipino, intervento, cerca il tiro! Buono! La rincurta, in un esusto, questa è una rincurta con la metterna a destra, scorti, uuuuh! Buono! Vediamo che il numero è molto deciso! Sì! Attenzione, cerca il tacco! velocissimo lo zelli tirati contro bene copro entra su adesso intervento straordinario di Buoio Missarelli cerca il tiro grande parata di carino fino avanti con le mani per copro che la di testa sbaglia il controllo attenzione ranavolo con un aspetto attimo a centro carino ottima uscita ancora del portiere libera all'aria attenzione Pipino spiega il 3 a 0 disperazione per Giuseppe Pipino ultimi minuti della finalissima Zelli contro Real Tante 2 a 0 per il rossolino di Pipino ranavolo gol 3 a 0 è partita chiusa è finita Real Tante campioni della Summer Cup giù d'am qualcosa di stran giù di co sono trovato st Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti